stasera voglio fare un dessert vegano qua ci sono i dateri adesso sto aspettando che la mia acqua bollisce per fare il cioccolato fondente poi mettiamo un po di burro d'arachidi e le noccioline avva cosa guardi la mia cagnolina mi sta guardando mi sa che vuole anche del dolce buono allora il mio cioccolato fondente è quasi 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 pronto ancora un po e si scioglie poi aggiungiamo il burro il cioccolato poi le noccioline poi lo mettiamo nel frigo per 20 minuti poi si vedrà quello che sarà a me no non piace tanto il dolce però ogni tanto ogni tanto lo preparo non mi piace cucinare vegano certamente che buon d'acqua mamma guarda 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 che buon d'acqua adesso si aggiunge il burro vediamo un pochino così si devono spostare l'agrofamento ava in sottofondo adesso si aggiunge il cioccolatino vediamo cosa combiniamo qua monta e adesso aggiungiamo le noccioline così è è così adesso per 20 minuti nel frigo e vediamo come sarà ora il mio dolcetto è pronto vediamo un po' da dove assaggiamo sono curiosissimo come è un po' di noi è uscito già mamma bombo allora è un po' di noi un po' di noi